Oggi vogliamo fare il vov, che è un lippore che si prepara in casa ed è molto nutriente. Questi sono gli ingredienti. Questi sono i 250 grammi di latte. Adesso nel latte ci metto metà dello zucchero che l'ho pesato. Perciò 200 grammi. In una pentola si mette metà del latte pesato, prima, con metà zucchero. Con un quarto di bastoncino di cannella. E si fa bollire per 8-10 minuti. Ogni tanto è meglio rimestare per non far formare la panna sopra. Bisogna poi, una volta bollito gli 8-10 minuti, bisogna farlo raffreddare completamente. Nel frattempo si possono comprare le uova e dividere l'altune dal tuorlo. Perché vanno usati soltanto i tuorli. Nelle uova mettiamo, come abbiamo detto prima, il rimanente zucchero. Dato che vogliamo fare un po' in fretta, faccio raffreddare il latte dentro una pentola, una bacinella di acqua fredda. Si amalgama bene lo zucchero come l'uovo. Per modo di formare una bella crema. Si agita e meglio viene, perché si solle meglio lo zucchero. Adesso ho strizzato bene il bastoncino di cannella. Poi cerco di amalgamare bene il latte raffreddato con le uova sbattute. Adesso che è bene amalgamato, bisogna aggiungere un quarto di bustina di vanillina. E alla fine si aggiunge di marsala. E per finire aggiungiamo 50 grammi di alcol a 95 gradi. Il nuovo è pronto. Adesso la mia lo assaggia. Ciao a tutti, chi mi ascolta. Prima di cominciare ho detto che gli odi sono fusa. Se sei fuso, fermati. E' successo che se si beve un bicchierino di vanillina, uno ha già fatto la ciucca. Io siccome non l'ho mai fatta, non vorrei sopra niente. E' successo che non l'ho mai fatta, non vorrei sopra.